Rappresenta solo il 4% dei tumori della pelle, ma è responsabile dell'80% dei decessi per cancro dell'acute. Il melanoma, che però grazie all'immuno-oncologia è una corretta prevenzione, può essere sconfitto. Proteggere la pelle, specialmente nei primi anni di vita di una persona, è la migliore strategia preventiva contro il melanoma. Ancora più importante d'estate, tutti dovrebbero utilizzare le creme solari, evitando di sporsi nelle ore centrali. Senza dimenticare il controllo della pelle ogni anno dallo specialista, in particolare nelle persone che presentano molti nei. L'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli organizza visite gratuite finalizzate proprio alla prevenzione dei tumori cutani e del melanoma. L'ambulatorio di dermatologia, infatti, si dedica all'iniziativa, non solo in occasione della giornata della prevenzione, che ogni anno viene organizzata da Euromelanom Italia, ma nelle quotidiane campagne di informazione della popolazione sui fattori di rischio e sui segnali indicativi della malattia. Ascoltiamo il responsabile del Dipartimento di Dermatologia Interventistica, Giuseppe Monfricola. La diagnosi del melanoma, che è una cosa che negli ultimi tempi dà la possibilità di una sopravvivenza a questi pazienti molto maggiore che in passato. Il melanoma è aumentato come numero in tutto il mondo, ma la mortalità è diminuita. È diminuita grazie a che cosa? Grazie alla diagnosi precoce. Diagnosi precoce che viene fatta da dermatologi, che devono avere appunto però una particolarità, devono essere in grado di poter definire bene quali sono quelle caratteristiche che ci permettono di distinguere il melanoma da un neo. In realtà molti sono convinti che noi controlliamo i nei, non è così. Noi andiamo a caccia, se mi persa il termine, di quello che può essere invece un non neo, quindi tra i tanti nei individuare quello che può avere qualche immagine che non ci fa ritenere che sia un neo, ma che possa essere un melanoma. Nessuna angoscia, direi. Lanciamo un messaggio rassicurante. Il melanoma c'è, il melanoma può essere diagnosticato precocemente, basta avere soltanto la cura, l'attenzione, di seguire delle indicazioni. Noi che cosa facciamo? Una volta che il sospetto che abbiamo avuto in videomicroscopia ci ha portato a immaginare che si tratti di un melanoma, la prima cosa è l'escissione chirurgica. Quindi sfatiamo un'altra leggenda per piacere, quella che dice «Non facciamo togliere i nei, questa voce è del tutto immotivata». Grazie.